La nera artistica, Mia Martini, almeno tu nell'universo, di Andrea Simone. È una domenica pomeriggio, il 14 maggio 1995. Siamo in un paese del Varesotto, non lontano dall'aeroporto di Malpensa, che si chiama Cardano al Campo. Mia Martini, considerata a buon diritto una delle voci più belle della musica leggera italiana, si era trasferita qui da circa un mese per trovare un po' di pace, ma da circa un mese Mia non stava bene. Nonostante nei primi mesi del 1995 avesse annunciato la sua partenza per una nuova tournée con la partecipazione di Mimmo Cavallo e dei suoi musicisti, la cantante soffriva già da qualche tempo di un fibroma allutero per il quale non intendeva sottoporsi al necessario intervento chirurgico, poiché aveva paura che l'operazione le modificasse l'inconfondibile timbro vocale. Aveva deciso così di compensare con dei farmaci antidolorifici assunti a detta dei suoi familiari in dosi eccessive. Fatto sta che da due giorni Mia Martini è irreperibile. Da venerdì 12 maggio il suo manager cerca di raggiungerla inutilmente al telefono. Dopo 48 ore di tentativi, preoccupato, decide di chiamare le forze dell'ordine. I vigili del fuoco fanno dunque eruzione nell'appartamento di Via Liguria 2 a Cardano al Campo. Il corpo senza vita di Mia Martini, al secolo domenica Rita Adriana Bertè, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947, viene ritrovato riverso sul letto, in pigiama, con le cuffie del mangianastri portatile nelle orecchie e con il braccio proteso verso il telefono. All'età di 47 anni, Mia Martini ha dato per sempre l'addio al mondo. Immediatamente la procura di Bustrasizio dispone l'apertura di un'inchiesta. Il referto stabilisce che Mia Martini è morta nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio 1995. Come causa del decesso, viene indicato un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti, cocaina per la precisione. Il 16 maggio, nella chiesa di San Giuseppe a Bustrasizio, si tengono i funerali di domenica Adriana Rita Bertè, in arte Mia Martini. Partecipano circa 4.000 persone e tra di loro ci sono molti volti noti del mondo dello spettacolo. Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Giorgio Armani e ovviamente la sorella Loredana Bertè, con cui Mia ha sempre avuto un rapporto tormentato di amore e odio. La bara viene avvolta in una bandiera del Napoli, la squadra di calcio per cui Mia Martini faceva il tifo. Contemporaneamente, alle 16.30 del pomeriggio del 16 maggio, tutte le radio d'Italia trasmettono la stessa canzone di Mia, almeno tu nell'universo, uno dei suoi grandi capolavori, un tributo che fino a oggi era stato solo riservato a John Lennon negli Stati Uniti. La storia di Mia Martini è quella di una donna che a 25 anni, negli anni 70, lascia la natia a Calabria e va a Roma in cerca di fortuna. È del 1972 il suo primo successo, Piccolo Uomo, cui segue poi il buon risultato di Minuetto e di altri grandi brani scritti per lei dai nomi più prestigiosi della musica italiana. Bruno Lauzi, Franco Califano e Maurizio Fabrizio. Alla fine del 1973, Mia Martini diventa la cantante femminile ad aver venduto più dischi nell'arco dell'intero anno, assieme a Ornella Vanoni e Patti Pravo. Nel 1974, Mia Martini è considerata dalla critica europea cantante dell'anno e i francesi arrivano addirittura a paragonarla a Edith Piaf. Nel 1977 inizia una lunga e tormentata storia d'amore con il cantautore italiano Ivano Fossati, a proposito della quale Mia dichiara «Intanto era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche, il rapporto con Ivano Fossati e avevo il mio bel da fare con questo campo minato. Avevo un contratto con un'altra casa discografica e ho dovuto romperlo a causa sua, perché era geloso dei dirigenti, dei musicisti, di tutti, ma soprattutto era geloso di me come cantante. Diceva che mi voleva come donna, ma non era vero perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me e la prova d'amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo. Il fatto che ci fossero tutti quei debiti da pagare era il mio alibi per non smettere, ma quando si è opposto violentemente alla collaborazione con Pino Daniele, alla quale tenevo moltissimo per un album che dovevo fare, questa lotta tra me donna e Mia Martini è diventata una cosa feroce e infatti, quando sono andata in sala di registrazione per incidere il disco senza Pino Daniele, mi è andata via la voce. Mi sono ritrovata con le corde vocali imprigionate in una spessa membrana formata da noduli. Pare che sia una cosa rarissima. Ci sono voluti due interventi chirurgici. Sono stata muta un anno e non si sapeva se sarei potuta tornare a cantare. Ho ricominciato con fatica. Ed è di quel periodo, purtroppo, anche la triste fama che Mia Martini si fa nel mondo della musica. Sono infatti molti a spargere in giro la voce che Mia porti sfortuna. Il fatto verrà spiegato dalla stessa cantante. Di ritorno da un concerto in Sicilia, il pulmino su cui viaggiavo con il mio gruppo fu coinvolto in un incidente. Due ragazzi persero la vita. Tutti approfittarono subito per appiccicarmi l'etichetta. Riporta Iella. Sempre a riguardo a questa nomea che le era stata appiccicata addosso, in realtà a torto, Mia ebbe modo di dichiarare. La delusione più coccente me la diede Gianni Boncompagni, un amico per l'appunto. Una volta fui ospite a Discoring. Lui era il regista. Appena entrai in studio, sentì Iboncompagni che diceva alla troupe Ragazzi, attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un blackout. La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro e tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C'era gente che aveva paura di me, che per esempio rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch'io. Mi ricordo che un manager mi scongiurò di non partecipare a un festival perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti. Eravamo ormai arrivati all'assurdo, per cui decisi di ritirarmi. Ed è proprio a causa delle ingiuste dicerie e della pesantezza che le causa la fama di Porta Sfortuna che Mia Martini esausta decide di ritirarsi dalle scene per un lungo periodo, dal 1983 al 1989. Ed è proprio del 1989 il ritorno in grande stile sulle scene musicali. Il musicista Gianni Sanjust tira fuori dal cassetto un brano che è un autentico capolavoro. Si chiama Almeno tu nell'universo e lo hanno scritto Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. È un trionfo. Mia partecipa al Festival di Sanremo e vince il premio della critica, suscitando anche l'entusiasmo del pubblico. A tal proposito, Mia dichiarerà Erano sette anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ho avuto dei momenti di grande repressione. E in quel momento ho sentito fisicamente quest'abbraccio totale di tutto il pubblico. L'ho sentito proprio sulla pelle ed è stato un attimo indimenticabile. Un successo che Mia Martini vissa l'anno seguente, sempre al Festival di Sanremo, del 1990. Con la nevicata del 1956, Mia vince ancora una volta il premio della critica, mentre un'altra delle sue canzoni più belle e famose, Gli uomini non cambiano, le vale il secondo posto al Festival di Sanremo del 1992. E poi di Mia ricorderemo sempre il tormentato rapporto con il padre e con la sorella Loredana Bertè, con la quale partecipò al Festival di Sanremo del 1993 con la canzone Stiamo come stiamo. Resta il fatto che Mia Martini è stata senza dubbio una delle più grandi interpreti di sempre della musica leggera italiana e che ci ha regalato capolavori indimenticabili come Piccolo Uomo, Minuetto, Almeno tu nell'universo e non finisce mica il cielo, La nevicata del 1956 e Gli uomini non cambiano. Sono brani che resteranno per sempre nella storia e che fanno di Mia Martini una cantante dalla voce inconfondibile, dal successo più che meritato, con un posto d'onore che si è sicuramente guadagnato e conquistato duramente e con grande fatica nell'Olimpo della musica italiana. Grazie.